eccomi qua con un video dedicato a cuscin questa volta un cuscin natalizio all'interno della scatolina possiamo trovare un cuscin dedicato a natale questi sono i vari cuscin che si possono trovare e poi c'è sempre quello la segreto questo qui l'ho preso da cliente e costa 10 euro e adesso vediamo cosa troverò qui abbiamo solito punto interrogativo chi ci sarà ed ecco la bustina con tanti piccoli cuscin due e tre oddio è il pupazzo di neve puscina pupazzo di neve porta la sciarpetta il cappellino vabbè tipo bottoni che lui tipo rappresenta il pupazzo di neve ed è morbido morbido e questa è la collezione di natale di puscina spero che vi piaccia un saluto e alla prossima ciao ciao